Buona giornata ai professori Alberto Gambino e Andrea Stasi, che sono gli autori del volume La circolazione dei dati, titolarità, strumenti, negoziali, diritti e tutele, edito da Pacini Giuridica. Ripeto, buona giornata entrambi e ben trovati, Gambino e Stasi. Grazie, buona giornata a voi. Buongiorno, grazie. Allora, professor Gambino, prima domanda a lei, l'avvento delle nuove tecnologie ovviamente ha segnato una vera e propria evoluzione, questo non lo sappiamo, insomma siamo ben inconsci, ma qual è la chiave per regolare tale innovazione? Che governo ha per regolare tale innovazione? Diciamo, la chiave è ricondurle a un sistema per certi versi antico, ci vuole logica, ci vuole percezione della realtà e soprattutto non bisogna assolutamente abbandonarsi ai tecnicismi. Cerchiamo di fuggire dall'idea che sono mondi che hanno un gergo, un linguaggio che non è consueto. È fondamentale, Rodotap parlava di alfabetizzazione elettronica, è fondamentale che il linguaggio della cittadinanza sia il punto di riferimento anche di coloro che lavorano nel campo del web e della tecnologia. Solo così si riescono a percepire i nuovi fenomeni e soprattutto i nuovi fenomeni sono utili per il sistema. Quindi la chiave di lettura è quella di un'integrazione piena, non già della cittadinanza verso le tecnologie, ma delle tecnologie verso la cittadinanza. Quando si parla di tecnologia, quando si parla di innovazione tecnologica, chiaramente si parla anche di circolazione dei dati, inevitabilmente. Professor Stasi, come si possono definire profili relativi proprio alla circolazione dei dati? Sì, è la sfida che ci siamo posti quando abbiamo pensato a questo volume e coinvolto gli autorevoli autori che hanno partecipato alla stesura. L'idea è analizzare i diversi aspetti che rilevano per la circolazione dei dati, a partire dai diritti fondamentali in gioco, dalla libertà di informazione, alla tutela della riservatezza, alla tutela della concorrenza e poi vedere come la circolazione dei dati si interseca con gli istituti fondamentali dell'ordinamento giuridico, la proprietà, il contratto e così via, per studiare, per comprendere come in un quadro di regole e di diritti fondamentali di riferimento, i dati possano circolare sia all'interno delle frontiere nazionali che tra diversi stati, come di frequente avviene. E poi abbiamo guardato alle intersezioni tra la circolazione dei dati e una serie di profili particolarmente rilevanti, penso alla cyber sicurezza, oppure alla proprietà intellettuale, oppure alle più recenti tecnologie come la blockchain. Quindi tanti aspetti da analizzare e tante riflessioni che abbiamo condiviso insieme agli autori di questo volume. Anche perché la circolazione dei dati si sposa inevitabilmente, va di pari passo inevitabilmente, con la privacy e appunto la garanzia della privacy. E il cosiddetto GDPR, Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, ha rappresentato sicuramente uno spartiacque tra il prima e il dopo, perché consente un adattamento pressoché continuo alla materia da regolare. Professor Gambino. Beh, lo spartiacque è stato che si è preso atto che i dati possono circolare anche in termini economici, e cioè non è contrario anche a quelle che sono le sensibilità dei diritti inviolabili, l'idea che ci siano dei dati personali, ovviamente non parliamo di quelli sensibili, ma parliamo dei dati che hanno a che fare con la profilazione, che avendo un valore economico e allo stesso tempo potendo essere uno strumento di ausilio per lo stesso cittadino consumatore nel semplificarsi dei processi tecnologici, perché si può essere instradati immediatamente in ciò che effettivamente si può fare risparmiando del tempo, che laddove invece il dato non fosse stato veicolato già dalle piattaforme e in qualche modo si fosse evidenziata una certa riconoscibilità, avremmo probabilmente perso molto più tempo. In più si creano anche delle possibilità di individuare quelle che possono essere i gusti, le scelte dell'utente consumatore e tutto questo però deve essere disciplinato con grande trasparenza e con grande possibilità di governo di quei dati da parte del suo interessato, noi diremmo il titolare in gergo diciamo comune, però tecnicamente si chiama il soggetto interessato. Allora tutto questo fa dire che la circolazione libera è ampia purché il controllo rimanga in capo al soggetto del cui dato ci si riferisce. Stasi, lo indica anche l'Unione Europea, il rapporto tra innovazione e privacy non può che declinarsi in termini sinergici e soprattutto non conflittuali. Sì, è la grande sfida del coniugare i diritti fondamentali degli individui che sono il fondamento della cultura giuridica europea con la sfida dell'innovazione, della crescita, dello sviluppo e la sfida dell'era digitale su cui l'Unione Europea in particolare sta cercando di dettare una serie di pilastri di riferimento. Abbiamo citato il GDPR, c'è poi per i dati non personali un apposito regolamento. Ci sono tutta una serie di ulteriori regole, di direttive relative alla cessione di beni o servizi digitali. Insomma c'è insieme un quadro di riferimento fondamentale di regole che evidentemente vanno costantemente oltre che applicate ma anche verificate in base al progresso tecnologico che devono aiutare appunto come anche ricamava il professor Gambino nella strada dell'innovazione. Quindi assolutamente coniugare l'innovazione con il rispetto delle regole, con il controllo in capo alla persona, al cittadino utente è un punto di riferimento essenziale ed è la grande sfida che si trovano di fronte le istituzioni, si trovano di fronte le imprese e su cui gli studiosi cercano di dare un contributo per aiutare sia appunto il rispetto dei diritti della persona ma allo stesso tempo la crescita e lo sviluppo dell'Unione Europea e naturalmente del nostro paese. Gambino, lei ha fatto riferimento a Stefano Rodotà. Infatti secondo un noto libro di Stefano Rodotà la vita è resa compatibile con la regola ma il dialogo costante tra i due è il presupposto stesso di un rapporto armonico tra persona, democrazia e digitale. Professor Gambino. Beh guardi rispondo anche richiamando un autore fondamentale per il diritto che era Francesco Carneluti che nel 1933 studiava la teoria della circolazione e disse che non è vero che nel campo del diritto circolano le cose, non è vero che quando uno compra una casa è la casa che passa all'altro soggetto ma circolano posizioni giuridiche, posizioni giuridiche e nell'ottica della cittadinanza di Rodotà queste posizioni giuridiche che circolano nel diritto non sono espressione soltanto di potremmo dire di un diritto domenicale cioè di un'appartenenza di cose ad un soggetto ma sono comprensive anche di quello che potremmo dire la fisionomia, l'identikit, la proiezione del proprio comportamento nell'ambito dei rapporti sociali. Ecco questa proiezione del comportamento nell'ambito dei rapporti sociali va tutelata e va tutelata rispettando ciò che c'è di più appropriato nella persona dal punto di vista della sua identità. L'identità personale è fondamentale che abbia delle regole nell'ambito della sua circolazione e cioè è fondamentale che ciascuno di noi venga riconosciuto per quello che è e non per quello che viene in modo artefatto e in qualche modo manipolato dai mezzi di comunicazione. Questa è la democrazia. Questi sono i diritti inviolabili e questa per certi versi è anche la lezione del professor Stefano Rodotà. E questo è il libro La circolazione dei dati, titolarità, strumenti negoziali, diritti e tutele, edito da Pacini Giuridica. Noi abbiamo avuto ospiti il professore Alberto Gambini e il professore Andrea Stasi che ringraziamo. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.